L'incontro del nostro sindaco Luca Secondi dell'assessore Bracalenti con i vertici di Bus Italia avvenuto lunedì 21 febbraio è un incontro molto importante per tutti i cittadini ma soprattutto per noi dell'associazione Il Mosaico 2.0. Importante perché già da tempo avevamo parlato con il nostro sindaco ponendo in evidenza le problematiche della sicurezza anche visti i fatti accaduti in questo ultimo periodo. Siamo contenti che l'amministrazione comunale si sia subito attivata, abbia ascoltato le nostre preoccupazioni e quantomeno si sia impegnata per cercare di risolvere questo grave problema. Tutti gli interlocutori presenti all'incontro di lunedì si sono presi l'impegno della maggiore sicurezza della stazione di Città di Castello. Le denunce da noi fatte come Mosaico 2.0 a questo punto vedono uno spiraglio di luce in fondo al tunnel però ricordiamoci che non c'è solo la stazione di Città di Castello, ci sono altre zone quali ad esempio le zone verdi, le zone periferiche, le zone poco illuminate o zone di Castello ad esempio le logge che devono essere comunque presidiate e prese in considerazione. Quindi noi ci auguriamo che questo sia un passo fondamentale e un inizio e chi ben comincia si dice a metà dell'opera quindi avanti tutta forza per una città più sicura.